Iniziando dal relatore di maggioranza, 8.14 a pagina 5 dell'onorevole Chimienti. Invito a ritiro contrario. 8.36 a pagina 14 dell'onorevole Centemero. No, scusi, scusi, 8.36 a pagina 14 dell'onorevole Chimienti. Invito a ritiro contrario. Poi, 8.38, sempre dell'onorevole Chimienti, a pagina 15. Invito a ritiro contrario. 8.42 a pagina 18 dell'onorevole Marzana. Invito a ritiro contrario. 8.44 a pagina 19 dell'onorevole Marzana. Invito a ritiro contrario. Grazie. Il Governo. Conforme alla relatrice. Grazie. Onorevole Pannarale. Le indico questi cinque emendamenti sui quali le chiedo il parere. Ma avevo già dato il parere. No, sono cinque che si aggiungono. È l'8.14 a pagina 5. Favorevole. Scusi, eh. 8.36 a pagina 14. A prima firma Chimienti. Favorevole. 8.38 a pagina 15. Favorevole. 8.42 a pagina 18. Favorevole. 8.44 a pagina 19. Favorevole. La ringrazio molto. Siamo all'onorevole Borghesi, pagina 14. 8.14 a pagina 5. Scusi, scusi, onorevole Borghesi. Contrario. Allora, contrario. Poi, siamo a pagina 14, invece, 8.36. Favorevole. Poi, pagina 15, 8.38. Contrario. Pagina 18, 8.42. Contrario. E pagina 19, 8.44. Contrario. Grazie. Onorevole Chimienti, immagino che il suo parere sarà favorevole su tutti. Bene, la ringrazio. E allora, colleghi, riprendiamo esattamente dall'8, da pagina 5, 8.14 dell'onorevole Chimienti, sul quale c'è... Chiede di parlare. Onorevole Chimienti, prego. Grazie, Presidente. Con questo emendamento vogliamo reintrodurre per la prima volta in questo DDL il concetto di merito. Non un fuorviante riferimento al curriculum del docente, che potrebbe contenere di tutto, ma un rimando oggettivo al punteggio di cui...